Ciao a tutti, benvenuti. Ciao, ciao a tutti. Eccoci al nostro consueto appuntamento con i webinar di ADV Media Lab. Io sono Serena Calabro e sono Operation Manager in ADV Media Lab. Con me c'è Sara Balleroni che invece è CXM, CRM Specialist e Consultant. Oggi parleremo di un argomento molto interessante. Condivido lo schermo che è il CRM. Diciamo che su questo argomento l'argomento è molto caldo in quanto nonostante tante aziende lavorino già in area CRM o perché stanno iniziando a implementarlo o perché l'hanno già implementato, c'è tanta confusione intorno all'argomento. Quindi oggi insieme a Sara vedremo quali sono i parametri da considerare per la scelta del CRM, quali sono gli aspetti più impattanti anche legati all'implementazione di questa tecnologia e quali sono le domande più comuni a cui cercheremo di dare una risposta. Come sempre il webinar appunto è inserito all'interno di un programma molto denso di appuntamenti che potrete consultare sul nostro sito. È un webinar registrato quindi nei prossimi giorni riceverete tutti i materiali e vi invito anche a partecipare alla conversazione scrivendo nel box domande e risposte in maniera tale da rendere anche il webinar un po' più interattivo. Come vi dicevo con me c'è Sara appunto CRM CXM Consultantina TV Media Lab, io sono Serena Calabro Project Manager. A questo punto lascio a Sara la condivisione e andrei al vivo del webinar. Grazie Serena e buongiorno a tutti. Vi condivido io lo schermo e vediamo un po' se riusciamo a farlo. Eccolo subito. Mi dovreste vedere e dovreste vedere le mie slide. Confermi Serena. Perfetto. Ok, iniziamo questo viaggio nel mondo del CRM. Come detto Serena oggi parliamo di CRM in particolare di come iniziare con il CRM, cioè come scegliere un applicativo CRM e quali sono un po' i punti importanti da avere a mente quando si inizia. È importante darci un po' di contesto perché siamo in un contesto tecnologico di grande cambiamento e in particolare sul CRM c'è tanta confusione. Questo grafico che vedete è preso da un survey, un sondaggio fatto pochi mesi fa, uscito pochi mesi fa, e che fanno annualmente su i chief marketing officer e incredibilmente il 25% dei mani dei chief marketing officer dice che non usa tecnologie di marketing, cosa che naturalmente non è vera perché anche un website è banalmente una tecnologia di marketing, anche l'email è una tecnologia di marketing, ma questo input mi serviva anche solo per fare una riflessione su quanta confusione a volte c'è e anche quanto gap c'è tra quello che noi pensiamo di fare e quello che effettivamente poi riusciamo a portare avanti. Questo viene invece da un altro sondaggio che invece è fatto su aziende solamente italiane, l'osservatorio CRM del 2023, quindi di dati dell'anno scorso, in cui si è chiesto semplicemente alle aziende se hanno un sistema CRM e il 69, quindi quasi 70% delle aziende hanno detto sì, abbiamo un sistema CRM e il 14% hanno detto che lo stanno implementando, il 10% lo sta valutando e solo un 7% è proprio estraneo a questo mondo e non è neanche interessato in quel momento. Quindi diciamo che se vogliamo prendere i dati complessivamente il 93% delle aziende ha a che fare con il CRM, sia che l'abbia già implementato che lo stia implementando. Questi sono dati sempre del CMO Survey del 2024, la previsione di spesa in tecnologie di marketing è di grande crescita, cioè i marketing officer prevedono di passare dal corrente 20% di spesa in tecnologie di marketing a un più 11%, arrivare al 31%, quindi è sicuramente un punto chiave, un punto caldo su cui andare ad investire. Dall'altra parte abbiamo detto appunto che il 93% delle aziende hanno a che fare con il CRM, ma sono pochissime le aziende che invece lo usano con successo, che sono soddisfatte di come usano il CRM e le sfide più grosse sono, e queste anche le riporto sempre dall'osservatorio, queste italiane, da una parte il change management barra la formazione, cioè la gestione, change management è la gestione del cambiamento, quindi la cambiamento dei processi, del cambiamento dei software in azienda e tutta la formazione e la creazione di competenze relativa, ma anche il fatto di integrare il CRM con altri processi aziendali, perché se il CRM come strategie, come software, non parliamo mai solo di software, è una monade chiusa e ci lavorano solo chi ci lavora e tutta l'azienda va su altri binari, chiaramente questo non porta così tanto valore come potrebbe, tutta la parte di reporting e tutta la parte di miglioramento poi della qualità dei dati, perché il CRM ha valore nel momento in cui chiaramente i dati che ha dentro sono giusti, sono affidabili, sono corretti. E nessuna di queste sfide ha a che fare con il software o la tecnologia in sé, ma sono tutte sfide che hanno a che fare con le persone e con i processi delle persone e con quello che fanno le persone. E quindi questo è già uno spunto importante per iniziare un po' questi ragionamenti che andiamo a fare. Ha detto Serena, scusatemi, prima ha detto giustamente Serena, scrivete pure in chat se avete domande, poi mano a mano ci fermiamo anche per rispondere, quindi anche se alcune cose che dico magari non fossero chiare o avete degli aggiuntamenti, degli spunti di riflessione da aggiungere, fatelo pure, volentieri. Ok, ci siamo dati un po' di contesto, cosa succede in Italia, cosa succede anche nel mondo in realtà per quello che riguarda il CRM. Andiamo un pochino più nel dettaglio. In questa sezione che ho chiamato il CRM come secondo cervello della tua azienda, che cosa intendo? Qualcuno di voi forse avrà sentito parlare di second brain, quindi di secondo cervello. È un framework, una metodologia sviluppata da Tiagoforte, qua vi ho messo il link al libro, che è molto interessante e che consiglio tanto. E questa metodologia di base dice, e che non parla di CRM questo libro, è un libro che parla di produttività, di organizzazione delle informazioni a tutto tondo. Ma il concetto di base è creare un second brain, vuol dire creare un mio secondo cervello fuori dalla mia testa, in modo che il cervello che ho, quello vero, possa fare operazioni ad alto valore aggiunto. Quindi tutte quelle informazioni che devo semplicemente ricordarmi, che devo mettere in connessione, che devo andare a poter richiedere e controllare, ma che non devo tenermi sempre a mente, le devo poter prendere e mettere in un posto in cui sono correttamente organizzate, in un repository esterno e centralizzato, digitalizzato, che mi permetta poi di farlo. In questo modo il mio cervello viene liberato, diciamo, da un peso di dovermi ricordare che domani chiamo quel cliente, cosa ci siamo detti ieri in quella call, ma cosa che dovevo mettere in quell'offerta, ma questa email a chi la dovevo mandare. Tutte queste cose rimangono in questo secondo cervello esternalizzato, che io posso interrogare a richiesta, che è affidabile e che è centralizzato, perché non è il mio unico cervello, ma anche il mio collega ci può accedere, anche il responsabile del reparto marketing, anche il direttore del commerciale può accedere, anche una nuova persona che domani entra riesce a capire cosa è successo, parlare con un cliente come se lo conoscesse da anni. E mi permette quindi poi fuori da me di fare queste connessioni. Quindi questo modello, Building Second Brain, che non riguarda il CRM, per me è un buon parallelo per il CRM, perché il CRM deve diventare proprio questo per un'azienda. E infatti la centralizzazione, cioè mettere i dati al centro, non ognuno nei propri computer, nelle proprie test, sulle proprie scrivanie, e quindi che diventano delle isole separate, ma in un posto centrale, in cui tutti possono andare a guardare, a tingere, tutti naturalmente, secondo i permessi che decidiamo di darci, è proprio una best practice di CRM, è proprio il motivo chiave che spinge le aziende poi a avere un CRM. E naturalmente, quando diciamo queste cose, la prima obiezione è ma io trovo tutto nei miei post-it, ma io sulla mia scrivania c'ho tutto, ma io conosco tutti i miei clienti, perché devo andare a mettere nel CRM i dati, le informazioni, io le so queste cose. Nel mio Excel c'è tutto e trovo tutto. E sono delle obiezioni comprensibili, nel senso che lo capisco. Fino ad oggi si è utilizzato un metodo, magari in qualche azienda, e non parlo di tutte naturalmente, però, se fino ad oggi ho utilizzato questo metodo, poi i miei post-it, vado a visitare uno o uno dei miei clienti, li conosco, conosco quando hanno il compleanno, e so che a quello devo parlare dell'Inter e non della Juve, o che quel prodotto gli piace particolarmente e non quell'altro, non ho bisogno di andarlo a scrivere. Scrivere mi sembra un effort in più, una corvée in più. Dall'altra parte centralizzare mi serve a non focalizzarmi su quel vantaggio che è solo di oggi, che è solo mio, egoisticamente mio di singolo membro del team, ma mi permette di pensare all'azienda e quindi pensare a scalare. Domani magari non ci sono solo io, magari domani c'è un team di tre persone, o magari anche adesso c'è un team di tre persone che potrebbe beneficiare dall'avere informazioni sul mio processo, perché il mio processo magari è virtuoso e può essere poi replicato, perché domani la mia azienda di magari tre persone, di commerciali, potrebbe diventare di quindici, e se io ho un processo solido per quei tre, quel processo può essere portato anche per quindici, e non mi va a mettere tutto in crisi. Mi permette di capitalizzare gli asset di conoscenza, che cosa intendo, che quella singola mail che io mando a quel cliente non è una singola mail che mando a un cliente, è un capitale di conoscenza, sono informazioni scambiate, è un asset relazionale, se rimane nel mio computer di me, che domani magari vado in un'altra azienda, l'azienda in cui sono ora perde quell'asset, sta perdendo valore. Tutte le cose che sono informazioni sparse su computer vari, su desktop vari, su post-it che poi vanno persi, sono asset capitale di conoscenza perso, che l'azienda non sta capitalizzando. Per non ricominciare da zero ogni volta che qualcuno arriva o se ne va, banalmente arriva un nuovo commerciale, chi sono i clienti? Cosa abbiamo fatto fino ad oggi? Passaggi di consegni, infiniti, riunioni, appunti, quaderni, tutte queste cose incubo a sé, succedono spesso, anche perché poi andiamo in un mercato del lavoro, lo sapete meglio di me, in cui il turnover aumenta, non va a diminuire, quindi la gente cambia più spesso. Per toglierci il peso mentale, lo abbiamo detto prima con il second brain, se non me le devo ricordare tuttamente queste cose, ho più tempo per usare il mio cervello per fare cose ad alto valore aggiunte, strategie, vendita, relazioni. E poi per togliere il peso mentale da tutto il team, non solo da una singola persona, da chi lo dirige magari. E in generale per una migliore customer experience, questo è un punto su cui torneremo perché è focale, cioè diciamo che su tutte le attività di CRM abbiamo una doppia prospettiva. Il CRM è la prospettiva nostra, della nostra azienda, di come gestiamo i nostri dati, di come gestiamo i nostri asset di conoscenza. La customer experience è la visione della stessa cosa che però ha il cliente. Qual è la mia interazione di cliente con un'azienda? Se io compilo un form in un sito e la persona che mi richiama non sa che cosa ho scritto in quel form, oppure contatto il customer service perché ho avuto un problema e quella persona non sa cosa ho comprato, non sa che scambio ho avuto, non sa chi è il commerciale che ha parlato con me, tutto questo è un attrito enorme alla mia customer experience che per me, cliente, è anche un'immagine dell'azienda che ho davanti. Quindi poi facciamo tante attività di branding, campagne di marketing e poi ci perdiamo in quella che è la customer experience. Invece avere dati centralizzati ci permette di dare una customer experience ottimale, dove possibile. Quindi abbiamo detto un pochino perché dobbiamo centralizzare, perché il CRM deve diventare questo centro e quali sono i focus principali. A questo punto direi, visto che parliamo appunto di come implementare il CRM, di da dove partire, ho detto facciamo una piccola checklist. Cioè io voglio iniziare oggi il mio processo di CRM o di ottimizzazione del CRM che ho, perché non è detto che devo partire da zero. Cosa mi serve? Cosa mi serve? Mi serve prima cosa a tempo. Non voglio spaventare nessuno, naturalmente. Qui scrivo che un'implementazione può prendere dai due mesi a un anno, ma può essere più lunga per attività ancora più complesse. Ma è un tempo, diciamo, mentale, quantomeno, spazio mentale. È un processo strategico e non può essere trattato come un software che vado lì, me lo compro, lo butto dentro e vediamo cosa succede. È un'attività strategica e il management aziendale deve vederla come tale e deve essere pronta a dedicare tempo a questa attività e energie mentali. Devo avere pazienza anche perché con il CRM è un'attività che richiede un approccio al miglioramento continuo. Quindi sì, ci saranno attività iniziali intensive di progettazione di come utilizzare il CRM, di implementazione del CRM, ma poi bisognerà fare un lavoro quasi da formichine nel mantenerlo attivo e aggiornato e nel dire ok, questa cosa che avevamo pensato così, ma in realtà mi servirebbe cos'ha, allora poi magari la andiamo a modificare. Non è un processo che nasce e si chiude, un po' come il percorso d'acquisto che sappiamo che gira nel tempo. Ed è importante che ci focalizziamo anche sui risultati a medio e lungo termine, perché è ovvio che se non ho niente, già avere un database di contatti e di clienti mi sembrerà bellissimo e mi permetterà di avere già dei risultati perché magari ho una mailing list, magari posso mandare le newsletter e va benissimo. Ma i risultati grandi, visto che è un processo strategico, li vediamo sul medio e lungo termine e quindi dobbiamo anche essere in grado di pianificare una roadmap di medio e lungo termine e di tenere il polso su questi risultati sul medio e lungo termine. E ho messo qua queste formichine anche per un concetto che tra l'altro viene comunque dal libro di cui vi parlavo prima, Building a Second Brain, che è il concetto di stigmergia. Stigmergia significa comunicare con gli altri attraverso la modificazione dell'ambiente, che è una cosa che fanno le formiche. E nel CRM, questo è molto importante, perché devo essere pronto a proattivamente modificare l'ambiente in cui lavoro, sistemare quel contatto in cui sono capitato per errore, accorgermi che questa cosa la potremmo fare in quest'altro modo, essere proattivo nel farlo perché devo sentirmi proprio parte di un processo e sono in un ambiente che è virtuale e che è per tutti e quindi che poi devo migliorare. Anche perché il deterioramento dei database è una cosa, non è normale. Secondo un sondaggio di HubSpot, i database si deteriorano, quindi si sporcano in media nel 20% all'anno, quindi non poco. E questo naturalmente ha un impatto non da poco sulle attività di marketing e sui ritorbi. posto che è normale, dobbiamo noi proattivamente andare a contrastare questo deterioramento in qualche modo. E infatti uno dei concetti anche che ricollego a questa idea è che un giardino è naturale ma non nasce per caso. E cosa significa questo? Che chi vi dice, sì, il mio post-it funziona, sì, questo funziona, perché chiaramente magari fa affidamento su un processo che è nato un po' per, diciamo, gemmazione naturale, ma quando poi parliamo di processi di business efficientati che devono arrivare a dei risultati, che devono migliorare quei risultati, dobbiamo sì mantenere la naturalità dello scambio, dobbiamo sì mantenere la vendetta relazionale, sì mantenere anche il cuore delle capacità, ma allo stesso tempo dobbiamo metterci della proattività nel progettare questo giardino in cui viviamo. L'altra cosa che metterei in questa checklist del CRM sono sicuramente i processi, perché appunto il CRM non è solo un software, è un insieme di strategie e di processi. a riuscire ad implementare in modo stabile, che duri nel tempo un CRM, significa anche individuare degli eventuali colli di bottiglia, formalizzare la cultura aziendale, implicita e informale in molti casi, cioè il team lo sa che se succede questa cosa, allora io chiamo lui, che però poi chiama lei e manda questa mail, che il responsabile di produzione poi verifica e richiama il cliente. Ma finché queste cose non sono formalizzate, uno quel processo si può sballare in ogni momento e nessuno ha un riferimento di qual è il processo giusto. E poi, come abbiamo detto prima, non è scalabile. Mappare i processi ci permette di fare ordine, di ridurre eventuali errori, appunto come stavo dicendo, di definire degli standard, quindi ok, le mail commerciali tendenzialmente dovrebbero seguire questo processo, perché abbiamo valutato nel tempo che questo è efficace. E in questo modo non ho un commerciale che performa molto e uno che performa meno, ma do a tutti degli strumenti che poi possono essere personalizzati, possono essere testati, possono essere cambiati, ma che li fanno partire dallo stesso scalino, diciamo. Ci permette di delegare più facilmente, perché poi possiamo andare a controllare, e ci permette anche di fare una verifica critica, quindi di dire qui le cose adesso fanno così, ma magari dovrebbero essere... Cosa? Potremmo ottimizzarle in questo modo. L'altra cosa che metterei nella checklist è un mindset di automazione. Tra l'altro qua ho citato Agile Marketing, che è un libro che nell'edizione italiana è stata curata da Daniel Casarin, CEO di Ademu Media Lab, ma aggiungerò poi, ho dimenticato di scrivere, il libro Automation Mindset anche, che ha toccato dei punti molto vicini. Avere un mindset dell'automazione non vuol dire essere un nerd, una persona che sa fare tutte le robe tecnologiche, perché è normale che in azienda non siamo tutti tecnologi. Avere un mindset di automazione vuol dire avere una mentalità curiosa che ci permetta di dire cavolo questa roba forse si potrebbe fare in modo automatico. Poi vado dal nerd di riferimento che magari è un consulente o magari è un interno e mi spiega come farlo o mi dà una struttura per farlo. Ma avere quell'approccio lì diventa fondamentale e questo passa per forza dalla cultura aziendale. E quindi un mindset di processo, non voglio automatizzare la singola azione, ma voglio guardare al processo intero, un mindset di crescita e un mindset che ci permette di scalare. Quindi anche se il tempo cresce questo processo è flessibile e elastico. E anche su questo cito il pensiero 10x di Google che è chiamato anche moonshot mindset, persona S, che significa che quando vado a automatizzare non voglio pensare al faccio 1,5 più di quello che sto facendo adesso, ma devo già pensare a fare 10 volte meglio, perché poi magari non arrivo a 10, arrivo a 8, ma già ho fatto tanto. Se limito anche solo il mio pensiero non riuscirò a portare dei risultati di valore, quindi magari anche a fronte di un investimento non mi sembrerà sufficiente. Scusa, Sara. Vai, vai, vai. Mi interrompo così ti lascio prendere anche un po' di fiamma. Come no? Io bevo. Infatti. È arrivata una domanda che forse consente anche di fare un wrap up rispetto a quanto abbiamo detto fino ad ora perché è arrivata magari qualche minuto dopo. Quali sono i principali vantaggi che un sistema di CRM può offrire in un'azienda? Ne abbiamo parlato, magari riusciamo a fare un piccolo sunto di quanto ci hai raccontato. Certo, assolutamente. Allora, il primo vantaggio che è quello che un po' abbiamo accennato all'inizio secondo me è la centralizzazione. Cioè avere i dati in un unico posto in cui il team, tutto il team, tutto il team che deve accedere, che ha permesso di accedere può andare e consultare. Dati di vendite, dati di marketing, dati di customer service e tutto questo, dati comportamentali e tutto questo va a formare quello che chiamiamo il profilo integrato del cliente, l'integrated customer profile, cioè un gemello digitale, perdonatemi perché poi chiaramente è una semplificazione, del cliente e io posso relazionarmi in un modo più completo. Tutto questo mi permette anche di fare delle attività di marketing e di vendita personalizzate e personalizzate significa che miglioro la customer experience perché il cliente riesce prima ad arrivare alla soluzione ai suoi problemi, sia che siano capire quali sono le sue esigenze, quindi con le attività di marketing, che siano acquistare il servizio o richiedere assistenza. L'altra cosa è sicuramente la parte di dati, di analisi, di reportistica e di forecasting anche perché questi dati poi ci permettono di fare una pianificazione data driven e di visibilità su quello che è il ritorno di investimento o anche delle attività di marketing. Quindi, secondo me queste sono un po' le cose chiave, ma volendo potremmo andare avanti di ore. Perfetto. Ne approfitto anche per ricordare per chi fosse arrivato dopo che invieremo slide e registrazione, quindi non preoccupatevi se avete perso qualche minuto del webinar. Allora, proseguo. Ok, abbiamo fatto una checklist che spero di non avervi deluso, era un pochino più di processo di strategia che pratica, ma è vero, nel senso che poi il software molto spesso quasi diventa una commodity o meglio, il software deve seguire quello che si è deciso a livello di processi, non si sceglie prima il software, ma si parte dagli elementi di strategia e di processo. Come scegliamo quindi questo CRM e cosa teniamo a mente? Alcune funzionalità del software CRM, le più comuni, deve permetterci di gestire i dati dei contatti delle aziende, di tracciare le attività commerciali, ma anche di marketing, visibilità del sito, submission, invidi, form, la possibilità di creare delle landing page, di tracciare i prospect che visitano il sito, quindi magari di pistatici delle aziende di sapere chi visita il mio sito, deve permettermi di completare i dati, deve permettermi di magari mettere un chatbot, di tracciare le mail, di avere dei calendari condivisi, quindi ci sono tante cose che un CRM può fare, ma nel momento in cui andate a scegliere, vi consiglio di mettere il focus su questi, perché gli altri tutto sommato lo fanno tutti, mentre, a seconda poi chiaramente delle vostre esigenze, su questi metterei un po' il focus. Uno, data enrichment e sales enablement. Che cosa voglio dire? Chiaramente, parolone in inglese da buttare via oggi, però perdonatemi purtroppo la lingua di riferimento per questo settore è questa. Quando parlo di data enrichment, cioè di arricchimento dei dati, cosa significa? Che il CRM deve essere in grado, o integrando sia tu l'esterno, o proprio il CRM con funzionalità native, di compilare in automatico i dati. Metto il dominio di un'azienda, scrivo tesla.com, non so se il dominio è giusto, nel mio CRM, e il mio CRM mi dice già qual è l'indirizzo, qual è la razione, qual è il numero di dipendenti, qual è il fatturato indicato, qual è il sito web, perché? Perché sono dati pubblici e il CRM moderno è in grado di andarli a leggere e a compilare questi dati. Ovvio che non lo farà per aziende piccole che non hanno appunto dati pubblici, ma soprattutto da SRL in su, o per aziende estere, molto spesso ci sono. Quando invece parlo di sales enablement, parlo di tutto quello che è facilitazione delle vendite, quindi di aiuto alle vendite, perché il CRM molto spesso, poi abbiamo un webinar a riguardo proprio a luglio, su come motivare il team di vendite all'utilizzo del CRM, viene visto come una corvea e un'altra roba su cui devo mettere i dati, che devo sistemare. Invece il CRM deve essere un strumento di facilitazione delle vendite, mi deve permettere di tracciare le mail in automatico, senza propri passaggi, di magari condividere il mio calendario con i prospect, di scannerizzare il biglietto da visita, di registrare in automatico le mie chiamate, avere la trascrizione, devo permettermi di fare delle cose che mi velocizzano e che mi fanno dire che il mio lavoro di venditore è più semplice, non è più complesso. L'altra cosa che vi spingo a valutare bene è quella di modularità, cioè se un CRM è un pacchettone unico, al di là magari di diversi livelli che possono avere, magari un piano free, magari un piano iniziale, magari un piano un pochino con più funzionalità e uno con ancora di più, di solito sono i tre i piani, anche la modularità, cioè magari una sezione dedicata al marketing, una sezione dedicata alle vendite, una sezione dedicata al customer service è importante perché uno impatta sul pricing, se vi vendono tutto forse non sono specializzati su niente e poi perché ognuno di questi aspetti ha delle funzionalità specifiche e non è detto che vi interessino tutti, anche perché magari il customer service non tutte le aziende lo hanno o lo trattano in modo separato perché magari fa parte delle attività di vendita, di accounting. e l'altro punto è chiaramente ne abbiamo sentito parlare tantissimo e quindi come non inserirlo qua l'intelligenza artificiale cioè un CRM moderno deve essere coinvolto già da subito nelle funzionalità arricchite dall'intelligenza artificiale avere una roadmap di sviluppo di funzionalità con l'intelligenza artificiale che supporti nella generazione di contenuti sia marketing sia commerciali come le email il supporto al customer service sia magari collegandosi a una knowledge base che permette di raccogliere informazioni sia generando automaticamente delle risposte supporto multilingua con traduzioni l'interrogazione di dati con il linguaggio naturale voi immaginatevi il CRM in cui io scrivo ma quanti contatti ho generato il mese scorso con questo modo linguaggio naturale senza fare filtri e query ed è in grado di firm previsioni basate appunto su gli storici quindi fatte con intelligenza artificiale artificiale machine learning quindi tutto questo è molto importante l'altra parte è questa l'ho messa ultima ma tra le ultime ma non deve esserlo perché questo è fondamentale l'integrazione perché CRM l'abbiamo detto all'inizio non è un'isola non è un castello nel deserto ma deve comunicare perché dovrà comunicare con il gestionale dovrà comunicare con il tool che usiamo per i webinar con il software che utilizziamo per questo con quello che utilizzano i commerciali per le note spese una cosa qualsiasi se ne vedono di tutti i tipi perché è normale che la tecnologia pervada la nostra quotidianità l'importante è che questa tecnologia non la pensiamo come tante isole separate ma come un ecosistema collegato con il CRM che generalmente sta al centro e valutare l'integrazione del CRM significa uno valutare che ci siano app e plugin preimpostati quindi per le integrazioni più comuni io clicco il mio pulsantino configuro e sono collegata dove non c'è l'app e il plugin per esempio con i gestionali di solito non è così perché le integrazioni sono complesse che ci siano delle API esposte e che ci sia una documentazione di sviluppo completa perché se qualcuno la vuole sviluppare questa integrazione lo può fare lo può fare in modo semplice l'altro punto naturalmente non ve lo devo dire io immagino lo sabbiate anche voi uno dei punti da considerare è il pricing in generale quando parliamo di CRM quasi tutti i sistemi più moderni vanno sulla base di utenti e contatti quindi pago i contatti o i contatti totali che ho o i contatti a cui faccio marketing quindi mando delle comunicazioni automatiche e gli utenti quindi chiuso CRM ma quando vado ad acquistare è importante che non mi baso sul costo oggi ma anche su una proiezione futura quindi se oggi inserisco CRM per il mio rapporto marketing sono in 2 ma domani lo voglio inserire per i miei commerciali che sono 50 attenzione devo valutare anche questa proiezione di crescita e valutare eventuali costi di servizi astuntivi assistenza qualcuno ce l'ha inclusa nel prezzo della licenza qualcuno no e anche il livello di autonomia raggiungibile ci sono software particolarmente tecnici magari più in cui riesco a fare più cose ma sono molto tecnici per cui non sarò mai indipendente nel fare delle automazioni nel fare delle attività di base e quindi quello diventa un bud bisogna mettere sulla bilancia cosa è giusto per me anche in futuro scusami Sara ti interrompo di nuovo abbiamo altre due domande che si ricollegano soprattutto all'ultima parte la prima dice quali criteri dovrebbero essere considerati nella scelta di un partner tecnologico per l'implementazione e l'ottimizzazione dello stack tecnologico di vendita e la seconda è come possono le aziende misurare l'efficacia degli investimenti in sales tech ok quindi scusami la prima è come come scegliere un partner tecnologico giusto allora la prima cosa che mi sento di dire e ormai l'ho detta proprio in tutte le salse quindi vi uscirà anche dagli orecchi ma è importante scegliete qualcuno che non vi parli solo del software è un partner tecnologico deve essere un partner che conosca i processi che stanno dietro la tecnologia perché se si parte dal software vuol dire che stiamo partendo dalla soluzione senza considerare il problema invece si parte da quali sono i processi quali sono le esigenze quali sono i desiderata di a scalare si definiscono e sulla base di quei desiderata si definisce qual è il software e si fanno delle software selection e delle valutazioni quindi il primissimo punto altra cosa naturalmente scegliete qualcuno che abbia le mani in pasta non che è la prima volta che lo fa però si dai sono un po' di tecnologia perché sono processi strategici e tre scegliete qualcuno che dia valore alla formazione alle persone alla formazione e al supporto perché dietro i processi ci sono sempre 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 le persone e dare un software pacchetto poi vedetevela voi non funziona mai 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 quindi io direi processi formazione boh cos'altro ho detto e esperienza la seconda domanda qual era scusami Serena come possono le aziende misurare l'efficacia degli investimenti in sales tech ok la valutazione intanto direi di farla su un orizzonte di medio lungo periodo come dicevamo prima perché inserire un CRM fa parte di un processo di trasformazione digitale nella maggior parte dei casi e quindi è importante che quando partiamo abbiamo già una roadmap di costi e ricavi attesi e quindi sappiamo quando quei ricavi attesi vanno a superare quei costi che non sarà subito e quindi è importante che abbiamo già bene la visione poi detto questo la valutazione di se quel processo ha avuto effettivamente valore può venire appunto dai ricavi quindi dal fatturato e assolutamente deve andarsi a rispecchiare su quello ma si può vedere anche in altri criteri nella soddisfazione dei clienti quindi in sondaggi come l'NBS Net Promoter Score o comunque valutazioni che il cliente fa sul suo rapporto sulla sua esperienza con l'azienda possono venire da KPI come il Churn Rate cioè il tasso di ricambio dei clienti che tendenzialmente con un'attività di CRM che tende a fidelizzare che deve svolgere questo obiettivo anche di creare relazioni sul lungo termine in massimo il Churn Rate dovrebbe diminuire la durata del cliente il lifetime value del cliente quindi basato sulla durata ma anche sul valore del cliente dovrebbe aumentare e poi chiaramente anche i miglioramenti di percentuali come quante opportunità ho aperto versus quante opportunità ho vinto quindi anche questo tipo di dati iterativi si possono andare a misurare questi sono solo alcuni poi bisogna vedere caso per caso specifico poi se non ho risposto avete altre dubbi insomma altre cose più specifiche ditemelo intanto avete visto che stiamo andando un pochino più sempre nello specifico e non sono rimasta vaga e adesso andiamo proprio a vedere tre esempi di CRM tre CRM che nella mia esperienza sono fra i più diffusi in questo periodo e quali sono anche un po' i pro e contro perché appunto la tecnologia viene alla fine viene rispetto ai processi e alle esigenze che avete se riesco a scendere il primo esempio che porto è Salesforce che ha ecco che come pro ha il fatto di essere molto molto completo in termini di funzionalità con Salesforce può fare tutto ha molti prodotti anche molto verticali quindi sono tante non solo moduli ma proprio prodotti che fanno parte dell'universo Salesforce che sono specializzati su cose specifiche l'analisi dei dati customer service eccetera ed è quasi completamente personalizzabile a livello di permessi di creazioni di oggetti dentro CRM di form qualsiasi cosa immaginate lo potete fare qual è il contro che è direttamente collegato al pro come sempre che è molto molto tecnico quindi l'altro lato è la medaglia di questa super personalizzazione che poi questa personalizzazione spesso richiede magari un intervento di uno sviluppatore l'altro contro è che è uno dei più costosi sul mercato naturalmente appunto anche in vista di quello che abbiamo visto l'altro esempio che vi porto è HubSpot altro top leader top player nell'ambito CRM che ha come pro che ha una user experience molto buona e molto semplice le persone anche dopo poco che utilizzano HubSpot sono in grado di orientarsi di capire come funziona ed è veramente un focus che gli sviluppatori di HubSpot tengono ha un grande ecosistema di integrazioni quindi ci sono tante app già integrate che come dicevo prima basta spingere il pulsantino e anche se non c'è quel pulsantino ha una documentazione delle API molto appunto documentate e anche relativamente semplici per sviluppatori naturalmente ed è molto completo anche nelle versioni semplici cosa che è rara da considerare cioè è chiaro che le versioni gratis hanno tante limitazioni il primo scalino che non è così costoso quindi le versioni che HubSpot chiama starter già permettono di fare tante cose la creazione dei form le landing page l'invio di mail marketing il tracciamento delle opportunità di vendita quindi già in queste versioni quasi può fare tanto il contro lato mio è che nel momento in cui passiamo dallo starter a professional a direttore enterprise i pricing salgono tanto quindi deve essere un progetto di investimento che poi si aspetta un ritorno di pari passo e non è così personalizzabile come Salesforce è comunque molto personalizzabile ma Salesforce ti permette proprio di andare nel piccolo dettaglio dipende appunto ripeto dall'esigenza che se ne ha molto spesso questo tipo di personalizzazione già è sufficiente ma se l'esigenza è diversa è molto molto tecnica allora forse è una soluzione dove però è ancora più costoso un altro software anche questo che si sta diffondendo molto e che nasce per l'e-mail marketing ActiveCampaign era un software di mail marketing al pari di un MailChimp ma poi nel tempo si è voluto diventare un CRM negli anni voglio dire non ieri e però ha il vantaggio proprio che essendo partito dall'e-mail marketing quel focus rimane una grande parte di specializzazione diciamo il pricing è competitivo rispetto alle altre piattaforme che abbiamo visto dall'altra parte è un pochino meno completo nelle funzionalità di CRM non ha ad esempio la parte di customer service e ha una user experience che poi diventa un pochino più meccanica ma proprio perché non nasce CRM a suo modo erano tre esempi ce ne possono fare mille altri però è anche per farvi capire un pochino come si possono andare a fare queste valutazioni sulla base delle esigenze della singola azienda metto questa ultima penultima in realtà sezione che ho chiamato Red Flags con un linguaggio un po' da meme per chi appassionato come me la Red Flag che è una bandiera rossa cioè un segnale che ci dice pericolo quando andiamo a implementare CRM io ne vedo parecchie e mi fanno adrezzare le orecchie e quindi volevo condividerle con voi perché possiate eventualmente identificarle anche nelle vostre aziende se manca il responsabile di progetto è un problema perché molto spesso c'è un proprietario o un CEO dell'azienda che dirige un po' la cosa ma poi è preso in mille attività mille progetti non segue il dettaglio non utilizza personalmente CRM deve esserci un responsabile di progetto che conosca bene CRM che partecipi alla formazione che metta le mani in pasta perché deve essere una guida poi per il team che lo utilizzerà se rimangono tutte persone separate e nessuno ha la responsabilità di verificare che l'utilizzo sia corretto si crea un buco importante il consulente esterno può aiutare ma fino a un certo punto perché poi non è lì nel day to day sì lo sfratim anche questo è importante perché se abbiamo team di marketing e vendita ognuno con i propri obiettivi ognuno che guarda il proprio orto e che non ci interessa mettere insieme e comunicare diventa un problema perché poi il marketing farà la sua io porto 100 lead mi frega se non sono in target o se sono tutti solo iscritti al newsletter nessuno ha fatto una richiesta commerciale i commerciali li chiamano tutti non guardano neanche i canzoni di marketing hanno fatto e lì si crea un problema invece il CRM va guardato proprio come una una centralizzazione anche proprio dei processi troppi dati troppi dati red flag nel senso che vogliamo segnare tutto vogliamo raccogliere tutto vogliamo tracciare tutto vogliamo fare scoring su tutto è un problema perché i dati non hanno valore finché non ci facciamo qualcosa e accumulare i dati è un po' come essere accumulatori compulsivi quando dico sì no ma sto barattolino lo tengo perché poi magari ci faccio qualcosa non ci faccio mai niente e quindi è importante che scegliamo bene i dati da cui iniziare e poi magari li ampliamo mano a mano che anche le nostre capacità di sfruttarli si ampliano e dai meme a Lao Tzu un attimo e giustamente Lao Tzu dice per raggiungere la conoscenza aggiungi cose per raggiungere la saggezza togli cose cioè i dati è vero che sono importanti ma se sono troppi e mi fanno fare confusione non riuscirò poi a trovare la saggezza a trovare l'insight in quei dati ultimissimo red flag mi sa che è il tre punto ma forse è il quattro è avere obiettivi non chiari cioè se io inizio con il CRM e non so cosa voglio fare non so se il mio obiettivo è la lead generation se il mio obiettivo è avere più fatturato o avere un migliore rapporto quindi più fatturato dai clienti esistenti più fatturato da clienti nuovi se parto con gli obiettivi sfumati il processo si rallenta e poi ognuno va per i fatti suoi non abbiamo più quella bussola che guida le azioni di tutti siamo alla fine quindi siamo anche nei tempi mi viene da dire e vi volevo solo far vedere un po' qual è il processo di implementazione di un CRM che seguiamo ad esempio noi in ADV Media Lab quindi dal nostro punto di vista consulenziale quello che facciamo quando appunto si inizia un progetto di implementazione di un CRM prima cosa è l'analisi perché come vi ho detto si parte dai processi quindi mappo come state utilizzando ora che strumenti che utilizzate che non sono per forza un CRM può essere un Excel può essere qualsiasi cosa però cosa si sta facendo ora e progettiamo insieme a voi un to be dove vogliamo arrivare e idealmente questo coinvolge tutte le aree marketing sales e customer service ma a volte si richiede poi un approccio che va un po' più a step perché magari l'azienda e il team è grande a quel punto si progetta si progetta proprio il CRM che campi mi servono quindi che segmentazioni devo fare gli elenchi per l'invio della newsletter le funzionalità che utilizzeremo le pipeline di vendita cioè i processi di vendita tutto quello che deve avere il CRM per accogliervi in questa nuova casa digitale e l'implementazione abbiamo progettato l'abbiamo confermato insieme a questo punto lo creiamo cominciamo a costruire il CRM nella metafora della casa digitale cominciamo a avere i propri lavori di pari passo mentre lo costruiamo andiamo anche a fare formazione quindi le cose che costruiamo vi vediamo e diciamo come utilizzarle e questa formazione non è mai qua si clicca fai questo qui crei un contatto qua crei una trattativa o meglio c'è anche quella parte lì ma la parte principale della formazione deve essere creare un mindset comune creare quell'automation mindset di qui sopra creare un pensiero che vada verso il cliente quindi di customer experience creare un linguaggio comune e degli obiettivi comuni per far sì che tutti lavorino insieme e poi finita formazione il progetto non termina anzi inizia da quel momento in poi perché il CRM è un applicativo vivo è un secondo cervello in senso vero e quindi bisognerà fare dei recap periodici vedere se le cose vanno bene che cosa va sistemato che cosa si può fare meglio che cosa va molto bene quindi va esteso magari a tutto il team e quindi si andrà a fare proprio un supporto continuo che qui di supporto non è non mi funziona sta cosa come la devo fare ma è proprio cosa possiamo fare per migliorare un miglioramento continuo e quindi un po' il progetto tendenzialmente si evolve così analisi e progettazione implementazione e supporto continuo domande domande e risposte ce ne sono altre Serena ne abbiamo un paio allora quali strategie possono essere adottate per mantenere e sviluppare relazioni durature con i clienti esistenti sfruttando le nuove tecnologie di vendita mi hanno preoccupato per bere allora quali strategie si possono utilizzare sui clienti esistenti per creare relazioni durature allora sui clienti esistenti possiamo fare dei promemoria dipende da un settore B2B B2C quindi è molto diverso promemoria su acquisti fatti vuoi comprarne di nuovo magari alla fine dello stock promemoria su date importanti banalmente il compleanno flussi di cross selling e di up selling hai comprato questo prodotto ma non quest'altro ti può interessare e in generale la tecnologia di vendita deve servire a supportare una vendita sempre di più relazionale e che coinvolge il marketing quindi il mio cliente ha visto quel contenuto magari gli faccio un colpo di telefono ma come come lo hai provato ma perché lo stai cercando avete bisogno di qualcosa in quella in quella specifica area oppure il il fatto una una vendita più relazionale questo assolutamente però in generale vendita più relazionale e supporto a non dimenticarci le cose e a upselling e crossselling mi viene a dire perfetto e poi ci chiedono SAP non è un sistema CRM no SAP è un gestionale penso che abbia una sua un suo applicativo CRM a parte però che non conosco personalmente ma generalmente sono sistemi molto molto tecnici SAP in sé però è un sistema gestionale che quindi serve a gestire anagrafiche risorse prodotti ordini più lato amministrativo e poi di produzione mentre CRM è un applicativo che deve essere più semplice e deve permetterci di tracciare il lead quindi il contatto dal momento in cui entra in contatto con noi a quando diventa cliente mentre il gestionale di solito prende in pasto da cliente in poi per capirci benissimo allora ne abbiamo un'altra che si riferisce al discorso dei silos di cui parlavi prima quindi tra marketing e vendite potete fornire esempi concreti di come l'allineamento tra marketing e vendite ha portato a un miglioramento delle performance di vendita sì il focus secondo me è come dicevamo anche prima la customer experience avere marketing e vendite allineate mi permette di dare al mio cliente finale un'esperienza d'acquisto migliore perché io se so che quel cliente ha già comprato X e quindi non può ricomprarlo perché magari non è un prodotto che si ripete non gli manderò comunicazione di marketing su un'altra cosa oppure se io so che il mio cliente ha scaricato il contenuto sul prodotto Y io commerciale gli posso fare una telefonata e dirgli ah cosa ti serve posso aiutarti nella ricerca posso darti un'occhiata e quindi adesso questi non sono esempi concreti ma più teorici però il focus secondo me è proprio questo la customer experience perché il percorso acquisto è sempre più complesso e il cliente vuole semplificarlo l'unica cosa che vi chiede è aiutatemi a comprare senza dover rimpazzire e quindi avere i dati centralizzati ci permette di fare questo faccio un esempio Serena che è capitato a me personalmente come cliente che è un esempio contrario di come l'allineamento crea problema ho acquistato su volevo acquistare su un e-commerce mi è arrivato il pop-up che se avesse acquistato avrei avuto se mi fossi iscritta la newsletter avrei avuto il 10% di sconto mi sono iscritta il 10% di sconto non mi è arrivato e a quel punto è arrivata ed è creata un'epopea incredibile di discorsi con il customer service a cui io richiedevo il mio 10% di sconto ma che non aveva nessuna idea di che azioni io avessi compiuto sul sito e quindi mi richiedeva informazioni che io avevo già dato dati che avevo già inserito mi ero già iscritta nelle newsletter facendo dei click e questo è proprio il core cioè se io per a comprare devo fare più fatica di quello che mi aspetto di dover fare probabilmente alla fine poi non compro questo è un esempio di converse ma anche la B2B fa la stessa cosa benissimo allora vediamo se ci sono altre domande ok un esempio concreto parliamo di mondo dell'interior design ok quali processi di automazione possono essere implementati per migliorare l'efficienza operativa e la gestione delle commesse nell'interior design ok questa è una domanda che arriva abbastanza a pennello perché una delle nostre business unit italian design farm si occupa proprio di interior design quindi ho tanti che esistono in mente su questo settore e la cosa che secondo me accomuna questo tipo di clienti è che ci sono tanti attori c'è l'azienda che produce c'è l'architetto c'è lo studio tecnico c'è l'agente c'è il rivenditore c'è il cliente poi ognuno chiaramente nei suoi casi però spesso ci sono tanti attori e il processo viene rallentato proprio dal passaggio di informazioni tra questi attori perché io mi arrivo al contatto di un privato lo devo mandare al rivenditore il rivenditore non l'ha ricevuto non lo ricontatta ma io non lo so se l'ha ricontattato il contatto mi richiama io lo mando a un altro rivenditore ma nel frattempo rivenditore e quindi le automazioni in questo processo servono proprio per gestire al meglio un per tracciare questo processo due per mandare tanti pro memorie io ho proprio l'esperienza mia è mando un contatto a questo rivenditore e poi lascio che il CRM gli faccia un reminder fra due giorni e poi fra altri due giorni e poi fra altri due giorni se non mi ha detto sì l'ho preso in carico e mandi i contatti del rivenditore anche al cliente e che poi dica alla gente però verifica con il rivenditore e che tracci questo avanzamento in modo automatico perché sennò sono tanti tanti flussi di automazione e di informazione da tenere sotto mano e se non ci sono automazioni si perde tanto anche potenziale di fatto direi perfetto allora non mi sembra ci siano altre domande ma te ne faccio un'ultimissima io che riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale cioè ok come si parla tanto di analisi predittiva dei dati eccetera eccetera come può l'analisi predittiva migliorare gli scoring e come può essere integrata all'interno dei sistemi CRM ok intanto lead scoring significa dare uno score un punteggio ai contatti per capire chi è più interessante e chi meno perché molto spesso poi nel CRM ci troviamo 10.000 contatti qual è quello più caldo qual è quello più interessante qual è quello che non ho ancora contrattato ma avrei dovuto contattare quando facciamo lead scoring ci sono due modalità per fare lead scoring cioè una che è più che è sempre automatica ma è più manuale nella definizione dell'algoritmo cioè io vado a creare un'automazione che dice se il contatto visita la pagina del prodotto X dagli 10 punti se compila questo form dagli altri 10 punti se ha questa caratteristica dagli X punti se fa un'altra azione toglie 5 punti e quindi una serie di un algoritmo che vado a definire io manualmente e che poi mi classifica i miei contatti e questo è molto utile perché me lo definisco come voglio io a mia immagine somiglianza e quindi sarà affidabile molto spesso però chiaramente l'intelligenza artificiale è un'altra cosa perché poi sulla base anche dei feedback che magari gli do permette di prendere considerazioni le variabili che a me neanche vengono in mente ma che invece poi si dimostrano vincenti nella generazione di fatturato e che sono magari micro variabili ma che hanno che hanno importanza quindi sicuramente tra i due un scoring basato sull'intelligenza artificiale è meno controllabile ma è sul lungo tempo più affidabile e permette di avere degli insight che superano la nostra limitatezza umana e dall'altra parte come posso farlo? Alcuni software lo integrano già HubSpot ad esempio lo integra già in alcuni punti altrimenti si usano dei software esterni l'importante è che siano poi integrabili con i CRM faccio l'esempio di breadcrumbs ad esempio che fa sempre l'e-scoring ed è poi integrabile con HubSpot o con altri software insomma Aspetto grazie sì qui penso sia sempre comunque un tema anche di chiarezza dell'obiettivo e dei parametri di stabilizzare per fare gli scoring perché mi è capitato spesso di ricevere richieste come voglio fare gli scoring tramite CRMX però alla base non c'era molta chiarezza rispetto a quali parametri potessero concorrere a creare lo score quindi anche esatto no no esatto sono d'accordo il problema il punto è che quando è un lead scoring basato sull'AI se abbiamo abbastanza dati di vendite cosa che magari è difficile quando parliamo di un B2B puro in cui le trattative sono meno e magari più lunghe invece un e-commerce magari trattative continue è abbastanza rapide allora l'AI riesce a imparare presto quali sono i contatti che sono importanti quindi riesce magari a darmi dei lead score però ecco lì non ho non riesco a metterci mano quindi li bypass anche il mio definire quali sono i clienti più importanti però soprattutto nel B2B avere invece un po' più polso su qual è il mio obiettivo è più interessante però richiede un po' più impegno e pazienza perfetto credo che non ci siano più domande noi siamo in perfetto timing grazie mille grazie a te ricordo che comunque possiamo rispondere alle domande anche successivamente quindi iscriveteci tramite i nostri canali come diceva all'inizio riceverete la registrazione e le slide del webinar e comunque rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti o curiosità che non sono emersi in questo momento ringrazio anche tutto il team di Vumeda Lab Sara che ci ha diciamo tenuti interessati tutto il tempo trascorso insieme vi aspettiamo al prossimo webinar troverete il programma sul nostro sito grazie mille Serena e volevo ricordare a tutti che se avete anche domande potete aggiungerci su LinkedIn e farcene anche direttamente o via mail avete i riferimenti nelle slide perfetto grazie mille ciao a presto grazie